Il virus è arrivato anche nel Regno di Esuatini, dove il Re ha dichiarato uno stato di emergenza nazionale, quindi le scuole sono state chiuse. Non c'è ancora un blocco completo delle attività né professionali né personali, però la situazione è tesa, ci sono tre casi accertati e l'ipotesi di trasmissione è elevata. Vi parlo da un paese che ha il più alto tasso di seropositività al mondo, e la tubercolosi è anche molto diffusa e quindi ovviamente la preoccupazione è che la diffusione su una popolazione che ha molti problemi immunitari possa avere degli impatti devastanti. Non ci sono possibilità di fare test nel paese, per cui i test devono essere mandati in Sudafrica e occorre aspettare qualche giorno e anche le strutture sanitarie sono abbastanza precarie, non ci sono molti posti letto in terapia intensiva e le frontiere sono quasi state chiuse rispetto al Sudafrica. Questo è un piccolo paese che confina in un lato con il Mozambico e l'altro con il Sudafrica e dipende quindi tutto rispetto agli approvvigionamenti alimentari dagli altri paesi e le decisioni del Sudafrica sono state abbastanza nette. Come comunità internazionale ovviamente ci troviamo un po' esposti, poi come italiani in particolar modo, un po' come gli untori. È una situazione difficile, difficile personalmente, difficile professionalmente da gestire. Come COSP abbiamo attuato delle misure di contenimento, di autoesonamento, di lavoro a distanza. Cerchiamo anche di utilizzare i progetti per sensibilizzare le popolazioni nelle aree rurali sul virus, perché ovviamente non c'è consapevolezza tra tutti coloro che non sono collegati a social media, che non hanno accesso ai mezzi di informazione in maniera regolare o comunque corretta e siamo anche un po' preoccupati perché i voli per l'Italia sono stati praticamente chiusi. Il Sudafrica ha dichiarato la chiusura delle frontiere rispetto ad alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, quindi un po' anche la preoccupazione di trovarsi chiusi in un paese in cui le tensioni sicuramente sociali, economiche, cresceranno e in cui non c'è preparazione, non c'è possibilità di affrontare anche da un punto di vista medico e sanitario il virus.